583 il totale dei gol realizzati nel girone B di eccellenza campana. Il club che ha contribuito di più a tale fatturato è stato l'Agropoli con 51 gol. Al primo posto nella classifica marcatori però ci sono tre giocatori di tre squadre diverse e nessuno del club salernitano. Befi del Cervinara, Fragelo della Palmese e Gargiù del Sorrento tutti a quota 17. 367 sono invece le reti siglate in casa nel girone C di promozione. La squadra che ha contribuito di più allo scorre è stato il Grotta. I lupi Ufidani nonostante il secondo posto hanno siglato più reti di tutti fra le Muramiche, ben 32. Sempre restando sul piano realizzativo ci spostiamo in prima categoria perché dopo 28 partite la somma dei gol realizzati è pari a 678. Il Vallo che oltre a detenere lo scettro di capolista detiene anche il miglior attacco con 70 reti e vanta di avere tra le sue fila anche il capo cannoniere del girone Attilio Sepe che ha totalizzato finora ben 25 reti.